Gentili telespettatori, buona giornata, importanti novità in politica. Quindi i diciottenni potranno votare per il Senato e i 25 anni potranno essere eletti senatori. Sapete che adesso bisogna avere più di 40 anni per essere senatore. Quindi ad esempio Di Battista, Di Maio sono parlamentari a Montecitorio perché non hanno passato i 40 anni, quindi non possono essere senatori. Adesso non ci sarà più questa distinzione, ma per essere eletti al Senato ci vorranno almeno 25 anni. E adesso anche i diciottenni potranno votare per il Senato, perché prima non era così. La Commissione Affari Costituzionali del Senato, il capogruppo del PD in Commissione Dario Parrini, ha spiegato è stata approvata la riforma costituzionale che con un emendamento a mia firma parifica a quello della Camera. Non solo l'elettorato attivo, ma anche quello passivo al Senato. Si tratta di una riforma epocale. Si supera la paradossale e oramai anacronistica esistenza di un ramo del Parlamento dotato degli stessi poteri dell'altro, ma non eletto a suffraggio universale. E si dà un segnale di giustizia, di serietà e di attenzione verso milioni di giovani tra i 18 e i 25 anni, che sono tuttora dei cittadini con diritti politici dimezzati. Secondo Parrini, il provvedimento andrà al più presto in Aula. In Commissione c'è stata l'astensione solo di Forza Italia. Il provvedimento aveva già avuto il Via Libera di Montecitorio il 31 luglio scorso, con 487 sì, 5 no e 7 astenuti. L'emendamento, presentato dalla maggioranza, primo firmatario appunto il senatore Dem Parrini, è stato approvato all'unanimità. Attualmente per votare al Senato occorre aver compiuto 25 anni, mentre per essere candidati ed eventualmente eletti l'età minima richiesta è di 40 anni. Per essere elettore alla Camera invece è sufficiente il raggiungimento dei 18 anni della maggiorità. Per la candidatura è necessario aver compiuto 25 anni, quindi minimo 25 anni per essere parlamentare o senatore. Però questo già era così per la Camera. Adesso anche per il Senato le due Camere vengono praticamente parificate. Io personalmente sono assolutamente d'accordo su questa riforma, infatti avete visto che praticamente quasi tutta la Camera di Montecitorio e il Parlamento ha votato sì, 487 sì, 5 no e 7 astenuti. Quindi i no sono praticamente poco più dell'1% rispetto ai sì. Intanto la maggioranza si spacca sull'emendamento antiprescrizione. Quindi passa per un voto in Commissione Giustizia l'emendamento 5 Stelle antiprescrizione, che sopprime la norma del forzista Costa. I Renziani votano contro e decisivo è il voto della Presidente 5 Stelle e l'opposizione accusa che la maggioranza segna pure con l'arbitro. Ma vediamo che cosa è successo nel dettaglio. La riforma voluta dal Ministro di Grazia e Giustizia, Bonafede, sullo stop alla prescrizione è salva, ma la maggioranza si spacca. La Commissione Giustizia della Camera ha approvato l'emendamento del Movimento 5 Stelle, che sopprime la proposta di legge Costa, quella che intendeva abrogare la riforma. Ma contro l'emendamento, approvato grazie ai voti di 5 Stelle, PD e l'EU, hanno votato anche i due deputati d'Italia Viva, schierati dunque con Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. A fare la differenza un solo voto. A favore sono stati 23, contrari 22. Quello della Presidente della Commissione Giustizia, Franca Businarolo, è stata decisiva, dure le polemiche, perché si accusano di aver segnato con l'arbitro, di aver vinto grazie al Presidente e al suo voto. Noi continuiamo il nostro percorso di coerenza, specie invece prendendo atto che il PD abbia deciso di recedere sui principi come quelli del diritto e del giusto processo per andare a rimorchio del Movimento 5 Stelle, anche sulla giustizia, dichiara Lucia Annibali, capogruppo di Italia Viva in Commissione Giustizia alla Camera, e accusa il PD si sta grillizzando. Un processo senza fine è la fine della giustizia. Respinge ogni maldestra accusa il Dem Walter Verini e contrattacca noi non andremo mai a rimorchio di Salvini. Anche qui mettono in mezzo Salvini, che non c'entra nulla in questa discussione. In effetti non è che il PD si sta grillizzando o i grillini si stanno diventando piddini, vi ricordate gratta gratta e sotto il piddino sta il grillino, no, in realtà i due partiti che non sono una coalizione, ma sono una semplice, sono una coalizione, non sono un'alleanza, sono due partiti messi insieme per contrastare il governo Salvini 1, che non può nascere, e così non è che il PD si sta grillizzando. A turno stanno approvando quello che dice l'altro partito per far vedere che sono uniti e soprattutto per non far cadere il governo. Quindi il PD in questo caso si grillizza, ma in altri casi i grillini come il MES e come la finanziaria sono diventati come i piddini, perché è stata votata la riforma del MES, che va contro gli italiani, in un futuro se ci potrebbero essere dei gravissimi problemi, è stata firmata la manovra delle tasse, quindi in quel caso i grillini hanno fatto quello che voleva il PD, in questo caso i grillini, quelli del PD, stanno facendo quello che vogliono i deputati, i senatori, la politica di Luigi Di Maio. Quindi l'opposizione accusa la forzatura della Presidente, dice che è come se l'arbitro all'improvviso segnasse il gol decisivo. Accusa il responsabile giustizia di Forza Italia Enrico Costa e avvisa che è solo il primo tempo della partita, dal 27 gennaio in aula, si celebra il secondo e siamo convinti di poter ribaltare il risultato. Vedremo cosa succederà in aula, perché se Italia Viva ha votato con l'opposizione, con Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, vuol dire che in questa commissione i numeri sono diversi, però in Parlamento non dovrebbero esserci problemi e il governo dovrebbe approvare un po' quello che vuole. Mentre in Senato sicuramente i problemi ci sono, nel senso che se Italia Viva vuole non far passare questo, lo può fare. Però in commissione Italia Viva ha votato, come dicevo, con l'opposizione, però in Senato, quando c'è poi il voto, e questo è importante perché se Italia Viva con i suoi 17 senatori vota con l'opposizione, prima di tutto questo provvedimento non può passare. Vuol dire che non c'è più la maggioranza, che si è formata una nuova maggioranza, perché Italia Viva con i suoi senatori, votando con l'opposizione, crea una maggioranza alternativa. La stessa cosa che è successa quando c'è stata la votazione della TAV. Vi ricordate che Salvini e la Lega hanno votato con l'allora opposizione che c'era il PD e i suoi alleati e da questa parte come governo e solo il Movimento 5 Stelle ha votato per fermare l'opera, la TAV, l'alta velocità tra Torino e Lione. Quindi anche lì si era formata una maggioranza diversa, cioè in quel caso una nuova maggioranza. Lì è stato poi l'inizio del declino del governo Conte I, da quel momento, da quando non c'è stata più la maggioranza. E qui al Senato potrebbe riproporsi, anzi, a meno che non ci sia qualche colpo di scena, che Italia Viva di Renzi cambi opinione in Senato. Con i 17 suoi senatori il governo non può approvare, mancano i numeri. Ovviamente Conte potrebbe prenderne atto e rassegnare le dimissioni. Andando da Mattarella potrebbe dire rassegno il mio mandato perché non c'è più la maggioranza. Però sicuramente non lo farà perché non è obbligato. È una opzione. Potrebbe farlo, ma non lo farà mai. Dirà è stato un inciampo perché Matteo Renzi ha voluto fare così, ha voluto comportarsi così, che non succeda più. Però, attenzione, Conte aveva detto che o si era tutti uniti o comunque poi lui sarebbe voluto andare a casa se non aveva più i numeri. Quindi lui ha detto se non ci sono più i numeri io me ne andrei. Quindi questo potrebbe improvvisamente creare un serio problema perché potrebbe esserci un colpo di coda di Conte che all'improvviso stufo potrebbe dare le dimissioni. È una percentuale minore sicuramente del fatto che vorrà rimanere alla guida del governo. Quindi vedremmo cosa succederà in Senato. Potrebbe essere la prima occasione che il governo va sotto anche perché in Senato i numeri sono quasi inesistenti. La maggioranza ha 163 senatori a favore e il minimo 161 cioè ha un vantaggio solo di due senatori. Quindi se Renzi con i suoi senatori 17 votasse contro non ci sarebbe speranza per far passare questa legge. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci. Grazie a tutti.